A Mirabella in bacca di centro del Clatino ad alto tasso di immigrazione monta la protesta degli esponenti del comitato cittadino pro Mirabella che nel denunciare un'elevata pressione tributaria dei servizi comunali e delle tasse hanno altresì lamentato attraverso il loro portavoce Guido Turino che molti cittadini stanno lasciando il paese per emigrare altrove, specie in Germania. Da un periodo di tempo a questa parte, un po' per colpa di quella che è l'economia in Italia che sta andando male e soprattutto un po' per le colpe delle amministrazioni che si sono susseguita a Mirabella in bacca, la cittadinanza si sta impoverendo al massimo. I dati, gli ultimi dati ci dicono che sto parlando da agosto, molti nostri concittadini sono andati di nuovo in Germania. Un terzo elemento posto in evidenza è poi la chiusura di molti piccoli esercizi commerciali come nel caso delle botteghe di prossimità la cui condizione non sta passando inosservata. Molti locali pubblici sono chiusi, parlo di genere alimentare, parlo di barre, parlo di operatori artigiani e tante altre cose. Gli esponenti del comitato cittadino pro Mirabella hanno intanto annunciato la promozione di iniziative volte a sensibilizzare la collettività come manifesti murali, volantini e petizioni per indurre gli abitanti di Mirabella a prendere coscienza di questo fenomeno. A tutto questo poi che cosa è successo? Che si è aggiunto una pressione fiscale da parte dell'amministrazione comunale che è pazzesca. Addirittura tutte le tasse sono state portate al massimo. Faccio un esempio. La tasse è stata portata al 2,50. La spazzatura o la raccolta differenziata è stata aumentata. La comunità davanti a una piccola economia ancora deve sopportare tutti questi pesi. Desideriamo che le tasse vengano almeno abbassate. Grazie a tutti.